Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Franche che vi parla dal Centro Missionario Internazionale di Krefeld, Germania. Che Dio vi benedica riccamente, è la mia preghiera. Io guardo indietro ad uno straordinario viaggio missionario in un certo numero di nazioni nel mese di febbraio di quest'anno, sia a Hong Kong o nelle Filippine, in Malesia, in Cambogia, a Bangkok, ovunque il Signore ha aperto i cuori e le porte per ricevere la parola di Dio. E come sapete, cari, io divento sempre più anziano e non è facile viaggiare con il cambiamento di orario e molte notti insonni. Ma a motivo dell'incarico divino, io devo andare di città in città, di nazione in nazione, per condividere, per condividere la preziosa parola di Dio. Ed io credo con tutto il mio cuore che il ritorno del nostro Signore, la venuta dello sposo per portare la sposa a casa, è molto, molto vicino. E secondo quanto ha detto il fratello Branham, il messaggero della settima epoca della Chiesa, il profeta di Dio per questo giorno, il quale ha ripetuto ciò che il Signore gli aveva detto dalla nuvola soprannaturale. Come Giovanni Battista è stato inviato, quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E noi tutti sappiamo molto bene che il Signore ha preso il messaggero, ma il messaggio, la parola promessa di Dio, è ancora con noi. E noi sperimentiamo la restaurazione e ciò che veramente tocca il mio cuore ogni volta di nuovo è questo. L'Antico e il Nuovo Testamento sono in perfetta armonia. Considerate per un solo momento, nell'ultimo capitolo della Bibbia, nell'Antico Testamento, Dio ha fatto la promessa in merito a Giovanni Battista e ciò è stato adempiuto alla prima venuta di Cristo. E tramite lo stesso profeta, Dio ha fatto la promessa in merito ad Elia, che sarebbe venuto prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Immaginate per un solo momento, in tutto l'Antico Testamento, ogni cosa che sarebbe accaduta nel corso del Nuovo Testamento è stata scritta. E noi comprendiamo, per la grazia di Dio, che il Signore fa tutte le cose secondo la Sua parola. E il Nuovo Testamento inizia con l'adempimento, mostrando che ciò che era stato promesso nell'Antico Testamento, ora viene adempiuto. Anche il nostro Signore ha letto in Isaia, capitolo 61, e poi ha fatto la dichiarazione, oggi, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a voi. Cari, Dio è soltanto nella Sua parola. Dio non è in nessuna interpretazione, in nessuna immaginazione. Dio è soltanto nella Sua parola. E come ha scritto l'Apostolo Paolo in Romani, capitolo 1, versetti 1 e 2, Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere Apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, come Egli aveva già promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle Sante Scritture. gloria al Dio Onnipotente per l'Antico e per il Nuovo Testamento. Gloria al Dio Onnipotente per l'armonia dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento Dio ha fatto le promesse. Nel Nuovo Testamento Egli adempie ciò che ha promesso. Anche l'ultima promessa di restaurare tutte le cose, di riportarci al principio, come il fratello Branham molte volte ha dichiarato il messaggio dell'ora è di tornare a Dio, di ritornare alla Sua parola, ritornare a Pentecoste, ritornare all'inizio, ritornare, ritornare allo stesso fondamento posto dagli Apostoli e dai profeti. E poi, cari, per me quale testimone oculare di questo grande, infallibile, speciale ministero dato al nostro caro fratello Branham, vi dico, voi non potreste mai immaginare come mi sento quando ricordo i momenti che ho passato insieme al fratello Branham. Non soltanto nelle riunioni in Germania e negli Stati Uniti, ma ho passato dei momenti con il fratello Branham, anche quando egli mi disse di ritornare in Germania con questo messaggio quando mi ha detto fratello Franche aspetta con la distribuzione del cibo finché riceverai il resto del cibo. Cari, io non sono un narratore di storie, vi dico la verità. Quando il Signore mi ha chiamato al Ministero come voi tutti sapete in tutto il mondo, mi sono state dette due cose. Il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Voi conoscete la mia testimonianza è eternamente vera e poi il Signore ha parlato in merito all'immagazzinamento del cibo e il profeta ha condiviso la testimonianza e ha detto il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa di Dio e si trova nei messaggi che vengono registrati sul nastro. Queste sono state le parole che mi furono dette il 3 dicembre 1962. Ora veniamo velocemente allo scorso fine settimana. Abbiamo avuto dei fratelli e delle sorelle qui da più di 20 nazioni da tutta l'Europa da oltreoceano dal Canada dagli Stati Uniti dall'Africa e per la grazia di Dio non soltanto centinaia ma più di mille persone si sono radunate per ascoltare la parola di Dio e poi in 172 nazioni piccoli e grandi gruppi nel messaggio del tempo della fine si uniscono a noi online tramite internet per ascoltare la parola promessa di Dio per questo giorno e come il fratello Branham ha detto un certo numero di volte le persone lodano sempre Dio per quello che egli ha fatto aspettano ciò che egli farà ma mancano mancano ciò che egli fa attualmente e amici questo è ciò che mi fa più male quanti guardano indietro a ciò che Dio ha fatto nello straordinario ministero che fu dato al fratello Branham dal Signore Dio onnipotente e Dio come testimone posso testimoniare che lo stesso ministero che ha avuto il nostro Signore Gesù Cristo quando ha camminato sulla terra lo stesso ministero si è ripetuto nei nostri giorni davanti ai miei occhi quanto è grande il nostro Dio che ha aperto il mio intendimento dalla prima riunione dal primo servizio quando ho visto e udito ciò che Dio faceva ma potete voi per un momento immaginarvi la responsabilità che io davanti a Dio e come ho detto e faccio questo con l'amore nel mio cuore quanti quanti dicono il profeta detto il profeta detto il profeta detto ma non riconoscono ciò che Dio fa adesso e se leggete e io non giudico ma se leggete il libro gli atti del profeta quante cose sono state dette in quel libro che il fratello Branham sarebbe ritornato che egli avrebbe avuto un ministero sulla terra non inferiori a 30 giorni prima del ritorno di Cristo quando leggete ciò che dei cari fratelli hanno detto e insegnato e le persone aspettano il terremoto nella regione di Los Angeles e hanno collegato la resurrezione con questo terremoto mettendo delle speranze nelle persone che il fratello Branham ritornerà e che avrà un ministero nella tenda avrà il terzo pool rivelerà i sette tuoni per favore comprendete per sempre e per sempre il ministero di William Branham è terminato per sempre e per sempre Dio non fa mai le cose a metà tutto ciò che Dio fa è perfetto William Branham era in grande aspettazione di vedere accadere le cose finali prima che il Signore ritorni ma fratelli e sorelle come leggiamo in Isaia capitolo 28 come leggiamo in Romani capitolo 9 il Signore stesso terminerà la sua opera il Signore ha compiuto l'opera di salvezza e di redenzione sulla croce del Calvario e Giovanni Battista non era presente sulla terra quando il nostro Signore è morto sulla croce William Branham non ha bisogno di essere sulla terra quando il Signore ritornerà per portarci a casa il Signore stesso completerà la sua opera e qui c'è la Bibbia dove che abbiamo una promessa in questo libro che il profeta ritornerà se non avete una promessa nella parola di Dio allora è una menzogna è una menzogna che voi credete e fate credere alle persone una menzogna soltanto se avete una promessa in questo libro questo è un testamento questo è un atto di proprietà questa è l'ultima volontà di Dio e l'Antico e il Nuo Testamento sono completi e nessuno può aggiungervi una parola e nessuno può togliervi una parola questo è un testamento e cari perciò devo dire queste cose Dio raggiunge le estremità della terra come fu detto al fratello Branham il messaggio il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo e per la grazia di Dio io ho predicato il messaggio dell'ora ho condiviso il cibo spirituale la parola rivelata di Dio i misteri che William Branham per la grazia di Dio ci ha rivelato e per favore notate anche Apocalisse capitolo 10 versetto 7 il nostro caro fratello forse 55 volte ha usato quel passo della scrittura e l'ha sempre menzionato al plurale i misteri i misteri che attraverso l'ultimo il messaggero della settima epoca della chiesa tutti i misteri sarebbero stati rivelati e noi diciamo amen e amen a questo Dio ha usato il fratello Branham in modo speciale ma Apocalisse capitolo 10 versetto 7 non parla al plurale ma parla al singolare in merito al mistero di Dio ma siccome è una scrittura profetica il fratello Branham poteva riferirsi a quel passo della scrittura e al suo ministero tuttavia Apocalisse 10 versetto 7 rimane per sempre al singolare allora si compirà il mistero di Dio chi è il mistero di Dio Gesù Cristo il nostro Signore Salvatore è il mistero di Dio rivelato Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé la vera proclamazione del messaggio dell'ora è di predicare la parola di Dio non di predicare William Branham e non di andare a dire il profeta detto il profeta detto no ritornate alla parola di Dio e lasciate che ogni figlio di Dio legga e ascolti ciò che ha detto il profeta nessuno ha bisogno della vostra interpretazione nessuno ha bisogno della mia interpretazione lasciate ogni cosa che il profeta ha detto dove e come egli l'ha detto e non ci sarà confusione nel messaggio dell'ora tuttavia i fratelli prendono delle dichiarazioni da qui di qua e di là e fanno le proprie dottrine voi sarete giudicati davanti al seggio del giudizio di Cristo per aver fatto questo dunque per la grazia di Dio noi comprendiamo che questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio di ritornare alla parola di Dio e credere come dice la scrittura Dio vi benedica e sia con voi io prego nel nome santo di Gesù amén